ci troviamo a castiglione di sicilia il borgo più bello d'italia almeno così c'è scritto nel appena metti i piedi nel paese caratteristico su paese strade viuzze strette bellissima giornata che non vi dico ancora il sole che praticamente la fa da padrone almeno per adesso Enzia che si avvia e la abbiamo l'Etna c'è una ripresa un po più da vicino eccola la una specie di belvedere sì un belvedere e questo è il circondario che praticamente circonda questo paesino che veramente è carino oggi ci troviamo alle cose della cantera stiamo facendo un sentiero praticamente costruito da pochi anni dal 2004 io non me lo ricordo in effetti dove in sostanza praticamente dovremmo vedere un po' diciamo poter scorrere fiume basalti e tutto il resto e questo è tutto il sentiero è stato un po' diciamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.